la forza ma crea la vita, dall'energia di chi si intuiglia per gli altri per creare un tessuto sociale che non lasci indietro nessuno. Nasce un albero simbolo di crescita e prosperità. Siamo tutti intimamente connessi e chi lavora e presta il proprio servizio per gli altri a parte di questa interconnessione la propria missione. Grazie.